Amici di Maria De Filippi Amici di Maria De Filippi, grande traguardo per Federica Carta Federica Carta festeggia l'importante traguardo dopo Amici di Maria De Filippi. È stata l'unica donna in grado di arrivare alla finale di Amici di Maria De Filippi di quest'anno, Federica Carta è la giovane promessa della musica italiana. Nella stessa squadra di Riccardo Marcuzzo e Andrea Smüller, i due vincitori dell'ultima edizione andata in onda del celebre talent show in onda su Mediaset, Federica si appresta a festeggiare il primo importante traguardo raggiunto dopo la fine del programma. Siamo arrivati finalmente anche a questo traguardo, il mio primo videoclip. Scrive la finalista di Amici di Maria De Filippi sul suo profilo social, mentre ringrazia i fan per questo significativo traguardo raggiunto. Federica Carta pian piano sta facendo le ossa nel difficile mondo della musica italiana. Fortunatamente ha il pubblico dalla sua parte, pronto a sostenere la loro beniamina conosciuta grazie al programma della Mediaset. Amici di Maria De Filippi, Federica Carta festeggia un importante traguardo. Dopo tanta fatica, Federica Carta è riuscita ad arrivare in finale ad Amici 16 dopo le critiche ricevute durante il corso del programma. Critiche che hanno aiutato la finalista di Amici di Maria De Filippi a crescere sia a livello professionale che personale. Ora, dopo la finale del programma, Federica Carta festeggia insieme ai suoi fan l'importante traguardo raggiunto. Finalmente, dopo mille sacrifici, la cantante è riuscita a realizzare il suo primo videoclip, grazie anche al supporto dei suoi fan. Devo ringraziare per prima cosa tutti voi, tutti voi che mi seguite e ci siete tutti i giorni della mia vita scrive la finalista di Amici di Maria De Filippi sul suo profilo Instagram. Nel mondo della musica, si sa, il supporto dei fan è un elemento fondamentale per costruire una solida carriera. In bocca al lupo Federica, che sia il primo di tanti videoclip del tuo percorso musicale.